Buona mattinata a voi. Buongiorno a tutti. Oggi è giovedì 11 febbraio, siamo quasi arrivati al fine settimana, ma Claudio, stai guardando Sanremo come i nostri telespettatori? Abbastanza. Abbastanza, ma una canzone che... No, per avere un termine di confronto con noi, non per la musica. Una canzone perché piangi, di felicità e perché non mangi. Ora non mi va. Io mi attirrei ai temi della giornata per oggi. Quali temi? Perché la musica la lascio a te se è più pratica della questione, più spritz. Dai, cosa parliamo oggi? Abbiamo una giornata molto particolare, una puntata molto particolare che tratterà, comunque avrà un filo conduttore con l'animo partenopeo, che tu lo sai benissimo, noi siamo contraddittori per natura e lo tratteremo attraverso la cronaca e delle storie di vita. Da un lato, insomma, in maniera negativa purtroppo racconteremo quelli che sono stati un po' gli omicidi che si sono susseguiti nel corso della settimana a Napoli. Mattina 9 ne ha contati 5, insomma, naturalmente è una parentesi di cronaca negativa. Però dall'altro la storia di persone che cercano il riscatto, quindi il miglioramento della propria condizione sociale attraverso forme d'arte, ma anche semplici forme d'espressione. Lo vedremo attraverso una mostra fotografica, insomma, in corso di trasmissione. E poi molto significativo l'intervento che ci sarà a pillole di salute perché tratteremo dei bambini farfalla, questi bambini purtroppo affetti da una patologia rara che, insomma, sta cercando una cura e lo vedremo insieme. C'è anche allegria con lo spazio dei Facciamoci Belli, lo spazio del Cucinando con MD e poi anche ancora delle incursioni davvero esilaranti e spassose. Lo vedremo tra pochissimo, adesso perciò andiamo con la sigla e poi Mattina 9 a tra poco. Mattina 9 è offerto da MD e poi Mattina 9 è generale giuteroni di sicurezza di Daniel Grazie a tutti. Grazie a tutti.